Il campione olimpico di judo Fabio Basile è ritornato a settimo torinese. Martedì 30 agosto i suoi genitori e i suoi fans della Chiama Settimo con il suo tecnico Pierangelo Tognolo in prima fila lo hanno atteso fino a notte fonda all'aeroporto di Caselle pur di abbracciarlo dopo la sua vittoria a Rio de Janeiro. Presenti è anche il sindaco della città di Settimo Torinese Fabrizio Puppo e il presidente del consiglio comunale Giancarlo Brino. Presto si svolgerà sempre a Settimo Torinese una serata celebrativa in onore del campione detentore della medaglia d'oro conquistata in Brasile la numero 200 dell'Italia in tutte le Olimpiadi nella magica notte di domenica 7 agosto. Oltre al momento istituzionale previsto per giovedì 29 settembre in sala consigliare si svolgerà un altro evento legato ad un'iniziativa di solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia.